Per me state rientrate, faccio la stessa domanda che ho fatto mai, posso rientrare quando prendete un gol determinato? Penso che nel momento in cui Francavilla va in vantaggio a Catanzaro è normale che si compatta dietro e per noi è più difficile trovare gli spazi, nel momento in cui stavamo in vantaggio 2-1 nella prima parte del secondo tempo abbiamo avuto due o tre palle gol, se facciamo gol la chiudiamo e la partita finisce. Purtroppo siamo stati meno bravi delle altre volte a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e poi sul primo tiro, sulla prima occasione, siamo stati anche un po' sfortunati a prendere gol perché il gol del 2-2 è un po' nato in maniera fortuita e niente. Poi siamo andati in svantaggio, abbiamo perso un po' la testa e abbiamo provato a mettere dei traversoni in mezzo ma non siamo riusciti a pareggiare la partita. Per me avete subito più il 2-2 che il 3-2 mentalmente, però anche così volevo chiedere come ti senti tu, se ti senti ormai al 100%? Sì, sto meglio, è chiaro che più gioco è meglio, è normale che ho fatto solo due partite a 90 minuti è normale che più andrò avanti e più sarò meglio.